I leak ufficiali di GTA 6 hanno ricevuto tantissime critiche per quanto riguarda la qualità grafica del gioco. Tu hai mai visto la pre-alpha di GTA 5? Molti ignorano il fatto che i gameplay di GTA 6 che abbiamo visto sono una pre-alpha, quindi il prodotto finale non sarà ovviamente così, considerando che ciò che state vedendo in questo momento era appunto il gameplay di GTA 5 nel 2009. Ovviamente sono tutti quanti i gameplay ufficiali, considerando il prodotto finale e il capolavoro che abbiamo ricevuto da Rockstar Games, aspettatevi qualcosa di altrettanto spettacolare anche per quanto riguarda GTA 6.